Senti dobbiamo recuperare subito qualche minuto che abbiamo perso un po' in fase di collegamento perché tengo tantissimo a questa intervista, non che non tenersi a Cristina Monti, anzi l'apertura è stata veramente come dice qualcuno col botto, ma ho inseguito per qualche settimana la regista di Prima Donna che è un film che esce proprio domani, giornata importante dell'8 marzo lei si chiama Marta Savina, ha vinto un importante riconoscimento alla festa del cinema di Roma con questo film e mi piace tantissimo Eliana ricordare che c'è tutto un cast fatto tutto di attori siciliani il film è stato girato in Sicilia e quindi ce lo faremo raccontare da Marta Savina che dovrebbe essere in collegamento con noi, Giulia Eccola qui, buongiorno, ben arrivata Buongiorno Marta, eccoci Grazie, grazie per essere con noi, so che le tue giornate sono intensissime ti ho disturbata qualche giorno fa il rimontaggio Senti intanto, ok, io ho parlato con tantissimi amici che hanno preso parte al tuo film che è stata anche un po' un'operazione corale da parte tua e un omaggio anche alla nostra terra, Marta Sì, assolutamente, noi siamo tornati nel paese di origine di mio nonno, della famiglia paterna appunto di mio padre Galatima Mertino Galatima Mertino sui Monti Nebrodi e è stata assolutamente un'operazione corale perché tutto il paese si è veramente prestato, ha preso parte al film perché molti di loro sono nelle immagini veramente hanno fatto da figurazioni speciali, comparsi eccetera ma poi anche le maestranze, proprio la mano d'opera, il lavoro dietro le quinte insomma è stato veramente uno sforzo di gruppo, molto bello Senti Marta, ci racconti un po' questo film? Ricordandoci che in questo momento siamo in diretta streaming su Facebook e quindi più approfondiamo più dobbiamo ripetere in realtà, no? Questa era la fase in cui dovevamo... Poi dobbiamo vedere il trailer Lo vogliamo vedere subito? Quanto dura? No, non ce la facciamo Ok, potevamo farlo adesso come introduzione Intanto stiamo vedendo alle nostre spalle la locandina del film la storia di una pioniera dei diritti delle donne questa prima donna esce domani, appunto l'abbiamo detto e fra un po' ci addentreremo anche nei dettagli Ma sì, perché la protagonista lì la riavremo fra un'ora esatta fra meno di un'ora che è questa strepitosa attrice che è Claudia Gusmano hai maneggiato un tema forte Marta che è appunto questa storia di Franca Viola di cui noi siamo veramente molto un po' legati come memoria storica ma soprattutto è ancora una ferita aperta Facciamo il nostro switch così ne parliamo direttamente in FM Abbiamo ascoltato Zucchero con un'altra storia e un'altra storia è quella che ci accingiamo a raccontare con un'altra ospite all'interno dell'Open Day Cinema di Radio In e qui, come piace dire a Ivan Scinardo, siamo sul pezzo perché domani, 8 marzo, esce al cinema Prima Donna un film di Marta Savina e guarda caso È lei, è lei in collegamento, la regista, l'autrice è molto bello questo occhiello prima del titolo La storia di una pioniera dei diritti delle donne ed è la storia raccontata da Marta che riprende un po' che riprende comunque la storia di Franca Viola che è la prima donna italiana ad avere rifiutato il matrimonio riparatore Marta, ecco, sono sicuro che la scrittura parte da lontano di questo film che domani andrà in sala Sì, guarda, la scrittura parte... intanto ciao a tutti e per, insomma, di nuovo grazie di avermi invitata la scrittura di questo film nasce molti anni fa perché io ho fatto un corto nel 2017 ma, insomma, già da un paio di anni mi incuriosiva comunque raccontare la storia di una rivoluzione che può essere anche silenziosa può essere fatta nel privato senza necessariamente dover scendere in piazza se uno non se la sente ma anche con un gesto apparentemente piccolo come un no poi, diciamo, nel film la storia ha preso anche un po' le distanze ha preso, diciamo, libertà perché comunque non è più la storia di Franca Viola ma per me era anche importante raccontare la storia di tutte le donne per questo poi il personaggio si chiama Alia Crimi perché comunque per me era importante raccontare un po' la storia di tutte le donne che pubblicamente o non pubblicamente ma anche nel privato hanno comunque fatto questi atti di coraggio e così di irriverenza in un certo senso perché in un mondo che è storto ed è al contrario questa pasta un po' come superbia e come un'alzata di testa e quindi mi interessava raccontare questo grandiosa direi proprio di sì noi avremo l'opportunità fra poco di vedere il trailer e quindi approfittiamo di questo momento per mandare la pubblicità al nostro ritorno ripartiremo proprio dalle immagini di prima donna e torneremo appunto a parlare con Marta Savina e chissà quali altre domande ha in servo Ivan che qui ha un papello di cose scritte torniamo fra qualche istante sempre in diretta su Radio In e siamo tornati proprio per vedere come avevamo preannunciato il trailer di Prima Donna allora guardiamolo insieme così poi lo commentiamo e rientriamo anche in direzione FM non c'è parlare con Chris non c'è niente di riccio a Chris le poetine ci sono sempre state ma non si chiama in causa la legge c'è il matrimonio per riparare all'onore ferito della ragazza stai facendo la cosa giusta sono capaci di tutti ti ho lasciato un cipollicchio amare un cipollicchio capitale e in giro sempre basta madre è mortificata quando tu racconti la tua storia non è più mortificante io sono orgoglioso di te via lo devi fare per te mi pare che le cose non si muovano invece le cose si muovono sei pronta? sei pronta? Marta devo essere sincero con te ti tenevo sott'occhio con questo film già da un po' si è minaccioso così abbiamo intervistato Francesco Colella e ha detto ma sai quando noi chiediamo sempre a cosa stai lavorando e lui ha detto e spesso ci dicono non posso dirvi nulla uscita un film che si chiama Prima Donna poi nei giorni scorsi un altro nostro grande e straordinario amico che Fabrizio Ferracane ha detto ma sai abbiamo tanti amici Marta Prima Donna poi ho contattato Claudia Cusmano ho detto no non è possibile la regista deve stare con noi in questo giorno scusa se ti ho fatto questa piccola no no mi fa cos'era strano che tu non ci abbia beccato e trovati lì sul set perché è di questo passo senti sono curioso ieri c'è stata la conferenza stampa mi diceva Fabrizio Ferracane domani hai scelto un luogo simbolo per presentare la tua prima del film sì guarda allora domani vado ad Ancona perché Ancona è il posto dove mio nonno galatese a un certo punto poi si è trasferito e ha vissuto e poi insomma è morto là e quindi volevo tornare io comunque sono legata ad Ancona una città dove vivono le mie cugine ha vissuto la mia nonna quindi vivono ancora i miei zii e quindi insomma mi faceva piacere andare là perché è un po' la città ponte dalla Sicilia che è stata un po' la parabola Sicilia Ancona e Firenze in un certo senso e quindi mi faceva piacere andare là è bello come ci siano questi intrecci personali con delle storie che riguardano poi delle storie universali e quindi questo mix poi è quello che permette di riconoscersi identificarsi vedessimarsi perché è tutto molto autentico non ho ancora visto il film ovviamente perché uscirà domani correrò a vederlo ma guardando il trailer leggendo un po' la sinossi e la storia penso a questo film con un target di riferimento assolutamente giovane e non so se è vero quando tu lo hai immaginato e l'hai scritto a chi a chi pensavi ti inserbo la risposta così ce la dai mentre andiamo a reti unificate dobbiamo fare il nostro switch sta scritto lì il tempo abbiamo fatto un tuffo negli anni 90 con la musica con elin enox ma siamo in diretta anche in streaming sulla pagina facebook di radio in dove ci siamo immersi in prima donna abbiamo avuto l'opportunità di vedere le immagini del trailer e stava finendo il tempo ma Ivan voleva sapere a chi fosse destinato se c'era un destinatario o un pubblico ideale mentre immaginava il film la regista ma anche mentre si scriveva visto che il regista è autrice Marta Sabine ho malinterpretato la domanda era questa guarda io forse in modo egomaniacale egoriferito però pensavo l'ho scritto per me nel senso che non avevo veramente un pubblico di riferimento avevo un pubblico generico molto generico perché comunque scrivi sempre pensando e sperando a qualcuno che lo veda in sala e al cinema però non avevo una sorta di età target o genere target perché vorrei che fosse un film che viene visto da più persone possibili ieri Fabrizio Ferracani in conferenza stampa ha detto una cosa che io non avevo per esempio non avevo proprio pensato ma invece l'ho trovata giustissima e molto bella cioè vorrei che tutti i padri vedessero questo film io sicuramente non ho scritto per i padri però invece ecco è giustissimo e mi piacerebbe molto che questo fosse un pubblico come dire che va in sala quindi tutti e nessuno ecco in un certo senso è vero perché dicevamo quello la storia di una donna ma la storia di una famiglia di una comunità di una società civile che si è schierata chi contro chi a favore è una storia che si che racconta dicevamo poco fa la parola universale non so se è appropriata però proprio il modo per andare al di là anche del del singolo caso è bello ma sì facciamo nostro un po' questo appello e lo rimbalziamo lo amplifichiamo dal nostro format qui alla radio Marta che devono vederlo tutti i padri e noi aggiungiamo le famiglie che vadano al cinema domani a vedere prima donna prima di salutarti Marta leggendo la tua biografia professionale l'ho rivista in tanti miei allievi della scuola di cinema tu sei andata nel Regno Unito a studiare cinema e poi lì hai cominciato a lavorare nella pubblicità hai vinto una borsa di studio all'università anche della California a Los Angeles dove sei stata all'estero ecco questa questo prepararsi questo formarsi all'estero e poi magari ritornare e mettere a disposizione il proprio passami il termine expertise guarda io devo dire avevo solo tanta tanta curiosità di vedere come si viveva come cosa c'era fuori dall'Italia e quindi è stato una più che una cosa forse un percorso ragionato è stato un impulso di vita di andare fuori vedere cosa c'era di diverso incontrare persone nuove anche culture nuove Londra e Los Angeles sono due città molto molto diverse e molto ricche anche di culture diverse quindi per me sicuramente è stato meraviglioso ed è stata una grande ricchezza poi sono tornata perché comunque questo film proprio in particolare essendo così legato alla Sicilia è così legato anche comunque è un film che in parte anche in dialetto quindi per me era necessario girarlo in Sicilia con attori siciliani e non poteva essere fatto altrimenti e quindi sono tornata ma tu come te la cavi col dialetto il nonno è riuscito guarda io in realtà il mio nonno siciliano non l'ho mai conosciuto perché è morto prima che io nascessi però in casa mia si scherza spesso dicendo che in qualche modo però i geni siciliani si sono convogliati in me perché io sono l'unica che vuole sempre andare in Sicilia che ha questo legame comunque con la Sicilia che capisce il dialetto parla un po' il dialetto quindi non lo so se deve essere creato qualcosa c'è una parola del dialetto siciliano che ti piace particolarmente perché ha un'intensità dei colori che meritano di essere ogni tanto tirati fuori dal cassetto guarda una delle mie parole preferite è arre cioè che proprio dà soddisfazione dirlo quando arre c'è qualcosa che ti irrita dici minchia ancora fantastica questo mi piace molto è una meraviglia fantastica io vado sulle domande tecniche come vedi come sempre però che portano colore al tutto fantastico io non conosco gli impegni di Marta abbiamo le notizie noi abbiamo le news se vuoi la salutiamo subito dopo il minuto di news puoi rimanere con noi altri 5-10 minuti o ti salutiamo adesso? guarda solo perché sono in montaggio va bene quindi scappo ma grazie mille per essere stata con noi grazie mille a voi davvero è giusto grazie mille per essere stata con noi ricordiamo domani 8 marzo prima donna al cinema di Marta Savina grazie Marta grazie a voi grazie mille ciao ciao buon lavoro abbiamo le news di Radio Inno torniamo fra poco